Arriva dal mare il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta a bordo di un catamarano che conduce sul palco di Piazzale Democrate anche le capogruppo del PD di Camera e Senato Serracchiani e Malpezzi, il presidente della Regione Emiliano e i consiglieri regionali dei DEM, oltre al nuovo commissario provinciale Misiani e ovviamente il candidato sindaco Rinaldo Melucci. E' una serata all'insegna dell'entusiasmo e dell'ottimismo in vista dell'esito della consultazione elettorale di domenica 12. Mattia Giorno, coordinatore lista PD, detta i tempi della serata, invita tutti i rappresentanti della coalizione. Raggiunge il palco anche il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, senatore Mario Turco. Tutti sottolineano l'unità ormai raggiunta dalla coalizione. E Letta sottolinea vinciamo a Taranto domenica e poi l'anno prossimo alle politiche. La sfida è lanciata. Quanto è importante questa competizione di Taranto per il PD? Questa competizione di Taranto è importante per Taranto ed è importante per Taranto e per l'Italia perché Taranto vuole un futuro diverso e questo futuro diverso passa attraverso il lavoro che Rinaldo sta facendo, aveva fatto e è stato interrotto. Lo riprenderà col voto dei Tarantini domenica, questo lavoro insieme alla giunta regionale di Michele Emiliano e con tutti noi a sostenere. Un lavoro che ha a che vedere con un futuro che sia un futuro di speranza, a partire dalla decarbonizzazione ma a partire anche dalle tante opportunità che Taranto avrà, a partire ovviamente dai giochi del Mediterraneo del 2026. Oggi certifichiamo che cos'è veramente il laboratorio Taranto, quelle buone pratiche che stanno cambiando il tessuto economico, culturale e sociale di questa città e che vengono riconosciute ormai da più parti come un modello da perseguire anche in termini nazionali per quello che è il campo largo progressista, riformista, ecologista.